in questo video andremo in questo video andremo ad uccidere il boss finale di X-Sinxion di X-Sinxion Groot non ce l'ho fatta si è andato in pensione in vacanza sono bloccato mi sono andato ma hanno portato dei gigantosauri a posto di Groot anche se li vedremo volare tra poco ah forse risisteranno un colpo un colpo non esistono forse 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 comunque perchè stiamo stiamo di già facendo questo uccidere ma di chi stiamo uccidendo di già lui perchè lo vogliamo sconfiggere comunque in gamma cioè la modalità più facile anche se non è facile che sta avendo bravo e mai i gigantosauri mandali 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 fatti seguire tutti i gigantosauri non li mandare qua non li mandare qua non li mandare qua non li mandare qua ok seguitemi i gigantosauri fatti fatti aiutare quando ti attaccano i 3 animali ok ragazzi aggressivi siete aggressivi attaccate vai attaccate forza vai 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 bravo bravo vai bravo bravo vai così ce la possiamo fare vai vai raga la vita del della boss si trova a sinistra raga guardate la sua vita vai l'aiuto 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 vai vai spugniamo 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 ecco un meteorite che potrebbe accadere un meteorite no 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 alcuni degli gigantosauri sono stati colpiti dai meteoriti no e ma c'è un coso d'elemento qua what è sparato un coso d'elemento è sparato un coso d'elemento no 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 attacca fai con l'attacco ma scusa si si ragazzi aiutate a me bravo 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 aiutate a me vai bravo bravo bravi bravi ragazzi Brava ragazza, brava, brava No, non è terrorista potrebbe cadere su di me No Ma chi aveva il boss, insomma E ma penso che la collegia con i dosauri sono morti Boss O no, no Boss Ma gli sta scendendo la vita Sì, sto spammando però Questa, what? No Vabbè, spammando Vabbè, è buono Vai, spariamo Vai, 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 vai C'è pure questo elemento che aggiunge Ma c'è un gigantosaro che sta attaccando la boss Vabbè, due secondi e venne spammando Vabbè, bravo, bravo Stai aiutando Vai, 7000 di danno gli fai il nostro titano Comunque gli fa poco danno, sai perché? Perché gli fa di meno di 30.000 Perché è messo in questa posa Ma insomma, si può alzare Non è perché Perché penso che abbiamo vinto ormai Non sto spando appena Mi volte Che c'è? Che c'è? Ua! Simo, 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 che c'è? È bello che mi sono girato forse di per poi Vai, spariamo Sì, 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 ovvio No Vabbè, grazie ragazzi Penso che abbiamo vinto ormai Perché il boss è spagato Non è colpa nostra Perché per ora la mappa sta avendo problemi Da ieri Secondo me è arco da quando ha messo con la giornata Ma sta cosa di erendo, che cosa vuol dire? Boh, penso che è casuale Andiamo, ma un giorno facciamo qualcosa va Un po' di riemento ci serve Non è che lo potremo No, sei stato Così sei lo stato Così sei lo stato Ma chi è? Il boss Oddio Ma non è vero, non si sta muovendo Ma non è vero che si Ah, sì, si sta muovendo Non stanno arrivando gli animali brutti Gigantosauri, venite Gigantosauri Gigantosauri, sapete che fare? Vai, vai Vai, vengite per noi Che sta avendo elettricità Elettricità Che sta succedendo al bus C'è elettricità attorno al bus Ma No, c'è la tua mamma C'è la tua mamma C'è la tua mamma Io li trovo a dire che li sono provati Per quello che erano Sono stati utili per noi Degli amici Della famiglia No, no, no Ci si deve muovere A mezzare Vai, spariamolo pure noi Per fare quella cosa Amore No, c'è il bro smash No, no, no 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 No, ma no No, bro smash Di nuovo Bro smash Spariamolo Per arc Sì, ma dobbiamo Sì, ma dobbiamo Sì, ma si muovere Vero, però Per bro Per tutto Oh Ma che piglia fuoco Oh E ma Ah Per bro Per bro What the fuck Ancora è nata quella cosa delle menta Per bro lo faremo Per tutto A sangue viola No, 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 no No, E ma No, no, no No, no, no No, no, no No, stupido Stupido No, no, no No, no Non qui Non qui Non parlo No Vai là Vai là No, Gigo Non ti sei brutto Non andare No 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 Titano No No, no, no E ma E ma E ma Attento Metto Perchè non succede niente Ma Che sta succedendo Amico E ma E ma pure il nostro titano Ma stai vedendo Oh Oh Vai ci vai ci vai ci Vai 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 Approfittano Vai 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 Spariamolo Spariamolo Vai Dagli un colpo Perché non gli fa niente Uuuuh Un meter di testo di me E ma No Attento Vai 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 E buono E buono L'ha colpito Buono Simono Non so se tu lo sai Ma quel Ciro Stava facendo Dall'ora Non sapete Quindi Oh Sotto bravo No ma vedi quello lì Era quello che mi seguiva da solo Vabbè Spariamolo Spariamolo Questo è per bra Per tutto Vai È pagato Il boss è pagato Fare Fare Tipo una calzetta Ma gli sta facendo danno La nostra cosa Ma che ne so Vai 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 Spariamolo Vai io lo sparo in faccia Vai Tiene questo Oh ma il fuoco fa mal C'è il suo di danno Se ci colpisce noi Quando siamo fuori Siamo morti Spamma Spamma Abbiamo vinto noi Abbiamo battuto Abbiamo battuto Abbiamo vinto Sto prendendo fuoco Abbiamo vinto Ma non è vero, lo dobbiamo battere Aveva un buco o una cucca per me no 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 совершенно‑no no 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 dai Ada no 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 per favore per favore per favore No, 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 devi correre e ma il mio Giconotasauro nella Pokoball ma non so lo faccio non lo so ahia io dobbiamo ammazzare con gli animali aiutami aiutami no raga c'è stato un problema lui è qui simono dai 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 spariamolo dobbiamo solo schifare i colpi gli facciamo più danno ah però adesso è invisibile è senza attacco tipo non possiamo colpiarlo ma come stai tu? stai bene? no 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 la mani basta fare quella mossa quella mossa brutta è non può fare niente sta caricando un attacco oddio mio no no però che sta succedendo qua? che sta succedendo qua? no no ahahah 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 ragazzi questa è stata la scombita tredici minuti ahahah stai caricando un attacco ahahah ahahahah ahahah 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 ahahah